Buongiorno a tutti, sono Gigliola Spattini e sono una diplomata al Collegio europeo di diagnostica per immagini. Io sono parte del comitato scientifico e mi occupo della formazione dei colleghi che fanno parte del circuito BluVet per migliorare in modo collettivo ma con formazione a persona il livello di diagnostica per immagine di queste strutture. È un'opportunità per diverse cliniche, per diversi colleghi, per creare quello che ho avuto all'estero quando ho scelto la formazione nei diversi anni che ho passato lontano da casa e quindi il fatto di sapere che si stiano formando delle strutture che potranno formare i colleghi in Italia senza doversi portare all'estero, forse anche meglio della formazione che abbiamo avuto noi, è veramente una bellissima opportunità e un sogno che si realizza. Perché ho scelto il progetto BluVet Academy? Perché è una formazione nuova, è active learning e non sono i soliti corsi, è la classica formazione ma è una formazione estremamente attiva dove il candidato deve mettersi del suo, è spronato a migliorarsi, a partecipare e vengono fatte attività che per noi sono diventate routine durante i nostri percorsi di formazione ma che raramente in Italia sono stati fatti. Quindi è la possibilità di espandere le proprie conoscenze e creare anche una rete di colleghi per migliorare la coesione della classe veterinaria e quindi portare un futuro migliore a tutti i colleghi. Grazie a tutti, vi aspetto a Rimini che è sicuramente uno degli eventi della formazione veterinaria più importanti dell'anno, sperando il prossimo anno di poter essere tutti insieme e di tornare alla nostra meravigliosa vita. A presto!